Al giorno d'oggi, ascoltarsi è fondamentale, specialmente ad un primo appuntamento. Ecco come vive una ragazza alla sua prima uscita con un ragazzo. Ma guarda questo ragazzo, addirittura l'inchino, come sono fortunata! Interessante, no? Questo ragazzo è fantastico, non si perde una parola nei miei discorsi. No, non ci posso credere, è anche molto premuroso. Come la vive un ragazzo. Da tal parte ho fatto una partiggiata, interessante, no? No, non ci posso credere, è anche molto premuroso. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.